A Roseto degli Abruzzi, grande partecipazione all'iniziativa Roseto riapre, messa in piedi da ristoranti, pizzerie, pub e persino palestre. Una manifestazione nata per denunciare le difficoltà di chi da oltre un anno sta attraversando a causa delle chiusure della pandemia un periodo difficilissimo. Un segnale forte sulla volontà di continuare a resistere accendendo le luci dei locali ed esponendo fuori il cartello che racchiude in poche righe la difficile condizione che si sta vivendo, ma anche la green time di voler riaprire. Parrucchieri, gioiellieri, negozi di abbigliamento, ottica, hanno partecipato in tanti, siamo veramente contenti. È iniziata sì, per gioco, volevamo cominciare a fare qualcosa, ma qualcosa di semplice, ma di concreto, rispettando le regole, perché noi ci teniamo a dirlo, vogliamo rispettare le regole e tutti i protocolli. Noi i protocolli siamo pronti già dall'anno scorso, dunque è iniziata così, ma ha avuto veramente un grande successo, anche dai clienti che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, di tutti i tipi, veramente, e anche da diverse parti delle regioni, diverse regioni ci hanno chiamato. Noi cerchiamo di sensibilizzare proprio questo, perché non ce la facciamo più. Dopo un anno siamo veramente allo stato estremo, guarda, è difficile per noi andare avanti. La stagione alle porte, siamo in grossa difficoltà, come dico ai colleghi, l'estate è un attimo, vola via, poi ci sarà di nuovo l'inverno e per noi pesano tante le utenze, le bollette, tutti i debiti che abbiamo accumulato in questi periodi che siamo stati chiusi. I ristori sono stati veramente risordi e non hanno risolto i nostri problemi. Vuole essere un segnale per far capire anche la popolazione, il momento di difficoltà che stiamo attraversando, perché dopo un anno di apri e chiudi, non hai certezze sulle prossime riaperture, diventa veramente, veramente difficoltoso, anche perché comunque un minimo le spese corrono, gli affitti corrono e quindi diventa difficoltoso veramente tirare avanti. Io parlo per il mio locale, un locale del genere non si tiene in piedi con l'asporto, ha dei costi di gestione che sono, dovrei fare veramente migliaia di panini al mese per mantenermi in piedi.